domani sera nella consueta riunione d'inizio anno la FGC Molise diramerà i calendari ufficiali per la stagione 2019-2020 dei tornei di eccellenza e promozione ricordiamo che i campionati inizieranno tra poco più di una settimana nel weekend 7-8 settembre insomma ci siamo la stagione ormai alle porte prima dell'avvio dei tornei da domani squadre in campo per la seconda giornata di Coppa Italia la manifestazione tricolore come ogni anno è una tappa di avvicinamento al campionato già in archivio il primo turno la seconda giornata come detto tra sabato e domenica l'ultimo turno ovvero la terza giornata dei minigironi si giocherà poi mercoledì 18 settembre per definire gli accoppiamenti per gli ottavi di finale ben 17 le partite in programma in questo weekend sfide tra squadre di eccellenza e promozione il calciomercato non è ancora chiuso ci sarà tempo sino alla prima metà di settembre per perfezionare i trasferimenti diverse società sono all'opera per rafforzare le rose in vista di una stagione che si preannuncia equilibrata in eccellenza il livello medio è sicuramente cresciuto con diversi team allestiti per la maggiore anche in promozione è previsto equilibrio anche in virtù della crescita del numero delle squadre in organico ora 18 e delle 5 retrocessioni previste nel programma della seconda giornata di Coppa interessante la gara tra Trivento e Baranello i primi vogliosi di riscatto dopo la sconfitta netta contro il Rocca Sicura mentre gli uomini di mister di Chiro vogliono confermare la buona prova offerta contro il Torrevecchia ad Alfedena il campo di Pietra cerca il successo dopo il pareggio contro lo Spinete gli uomini di mister Cordone vogliono il passaggio del turno nel girone in compagnia anche del Gambatesa impegnato proprio a Spinete a Castel di Sangro il comprensorio Vairano che in settimana ha piazzato il colpo Nicola Panico un acquisto che al momento pone i casertani in vantaggio su tutti nella griglia per la Serie D cerca il secondo successo per chiudere la pratica promozione nello stesso girone si gioca anche Biccari Venafro in anticipo al Civitelle sabato bella sfida tra Donche e Sagnone ed il giovane Boiano di mister Gioffre i matesini puntano sulla linea verde dopo la cessione di alcuni pezzi importanti della passata stagione come Touré, Diallo, Tassillo e Scimò trasferta a Torre Maggiore per il Rocca Sicura di Bonomi il team Bianca-Azzurro e tre papabili per la vittoria di campionato un roster completo e di esperienza per puntare in grande interessante anche la gara del Vita Antonio prevista sabato pomeriggio tra Ripalimosane di Sernia e Bianco Celesti guidati da mister D'Ambrosio sono ancora in fase di costruzione la società ha garantito un paio di innesti di livello per rinforzare una rosa composta da tanti giovani di prospettiva per far ripartire il calcio isernino ultimo ingaggio in ordine di tempo il difensore Antonio Laurelli ex Boiano e Benafro una pedina importante per sistemare nel migliore dei modi la retroguardia difensiva alla fine